colpisco e metto l'altro qua, ok? su qua colpisco qua va bene vedi che ci arrivo uso il muro in questo caso per può essere la mia morte ho la mia salvezza perché con il muro mi appoggio mentre lui cerca di spingere qua già preparo, mano sopra, pollici al posto giusto eh, questo già comincia a lavorare colpisco qua sotto preparo un pollice, lascia montare i pollici però non strappiamoli, stessa cosa eh preparo quindi prima cosa appoggia il muro colpisco e sta passando qua va bene? quindi da questa Grazie a tutti